... Comunque, cara, se ancora hai capito, io mi chiamo... Che c'è? Io ti vuole l'anonimo. Mi soviascio, mi vuole l'anonimo. E va bene, cara, se mi vuole l'anonimo chiamami pure il cancelletto al 31 cancelletto. Sono figo, la poca, o più. Come fai che sia come nome? Eva. Eva! Oh, Eva! Oh, Eva! Oh, poca! Scusa, Adamo, Adamo sullo piano, Adamo, 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 sempre a dire Adamo, Adamo, poi Adamo male, buah! Io una nicotina, con me porto sempre la sua fotografia, vuoi vederla? Vediamo la simpatica canale! Eh, quindi, come si chiama questa cosa? Bernarda! Belnaura! Com'è bella la tua gelnaura! Wiccia, wiccia! Guarda, beluccellino! Come dici? Guarda, beluccellino! Pomerino! L'ho non chiuso in rabbia! Ti prego! Cosa? Chiaro! Ti prego fuori! Prego! Tu? Perché te lo vuoi l'uccello? Ti spiace la ragazza! Che vuole... Ma ora? Certo! Saranno anni che non vuole! Non lo sa che io! Ma hai educato o non hai educato? Qualche mese di affinezza? Chissà che dolore quando non hai fatto! Dici! Ma ma dai un po' di fastidio all'inizio! Tu hai andato che secondo me è un piacere! Io sono contro la caccia! Ma dici! Se è contro la caccia! E non è il primo cacciafano! Non devi cacciarlo! Devi farlo con le mani! Pomer! Certo! Io ho il capizzo mio! Guardami sentai! Non è magnifico! Odessamente la mamma ha fatto un bel passeo dì!